Il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia politico principale del Movimento 5 Stelle, a breve sarà convertito in legge. Per venire incontro alle tante domande dei cittadini, in renti alla tempistica, metodologie e requisiti, gli attivisti cittadini del Blog delle Stelle hanno organizzato un incontro pubblico che si terrà ad Eboli domani alle ore 11.30 in Piazza della Repubblica sul tema reddito di cittadinanza. I saluti iniziali saranno il sindaco di Eboli Massimo Cariello, parteciperanno i comitati cittadini e gli interventi di Federico Salerno, docente di diritto ed economia, Luigi Jovino, portavoce alla Camera del Movimento 5 Stelle, Commissione Difesa, ed Anna Bilotti, portavoce alla Camera, Movimento 5 Stelle, Commissione Lavoro ed Affari Istituzionali.